Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a parlare di encoder o codificatori utilizzati in elettronica digitale. Innanzitutto dobbiamo fare ben attenzione a distinguere quelli che sono i codificatori, che vengono comunque chiamati encoder in campo di elettronica digitale, che sono quelli che andremo a vedere oggi, da quelli che sono invece gli encoder rotativi o lineari, che invece sono dei trasduttori di posizione e quindi quelli fanno parte poi di un altro mondo. Per quanto riguarda gli encoder, i codificatori digitali, quindi tutto quello che riguarda l'ambito dell'elettronica digitale, sono appunto dei circuiti digitali che hanno la particolarità di poter rilevare la presenza di un ingresso attivo andando a fornire in uscita il codice binario corrispondente. Nel senso, se io ad esempio ho in ingresso 2 alle n linee, avrò in uscita n linee. Quindi il tipico esempio più semplice è quello dell'encoder 8.3, da ottala binario si dice, dove ho in ingresso 2 alla 3 linee, quindi 8 linee, che andranno da 0 a 7, e in uscita avrò tre linee che mi daranno il codice binario corrispondente all'ingresso attivato in quel momento. Quindi nel caso in cui avrò l'ingresso 1, avrò il codice 001. Ma lo andiamo a vedere nei dettagli tra un attimo. Esistono diversi tipi di encoder dal binario, quello che andremo a vedere per primo, a quelli che sono poi gli encoder a priorità, perché ovviamente quelli più basici, più semplici, comportano qualche piccolo problema. Allora andiamo a vedere per primo il più semplice, quindi il codificatore da 8 a 3 linee, quindi da ottale a binario. Quello che si presenta è, ovviamente sarà il d'integrato con la sua piedinatura, però per andarla a spiegare in linea di massima, avremo i nostri 8 ingressi, da 0 a 7, e le nostre tre uscite, che invece vengono indicate con ABC, dove avrò come A il bit meno significativo e C il bit più significativo. In corrispondenza dell'attivazione degli ingressi, quindi quando ho attivo l'ingresso 0, avrò i tre 0, quando ho l'ingresso 1 avrò 0, 0, 1, quando avrò l'ingresso 2, 0, 1, 0, l'ingresso 3, 0, 1, 1, l'ingresso 4, 1, 0, 0, l'ingresso 5, 1, 0, 1, l'ingresso 6, 1, 1, 0, e l'ingresso 7, tutte e 3, 1. Quindi il codice binario corrispondente all'ingresso attivato. Quindi se io voglio andare a utilizzare questa tavola di verità, questa tabella di verità, per andare ad implementare con le porte logiche un encoder, andrò a prendere, come classico fare, andiamo a prendere gli 1 del DC, della colonna C, quindi i 4, i 5, i 6 e i 7, la somma di questi, poi della B avrò i 2, i 3 e i 6, i 7, e della A avrò i 1, i 3, i 5, i 7. Quindi andando a prendere gli 1, li sommo e posso farmi tranquillamente un'implementazione con le porte logiche con delle end di questo encoder. Quindi i miei ingressi, che in questo caso vengono rappresentati da dei pulsanti che portano a livello alto l'ingresso, quindi mancanza di ingresso a livello e basso, le resistenze di protezione, quindi le resistenze di pull down, e gli ingressi sulle varie porte logiche. Che cosa si può notare di questo? Si può notare che non si ha la presenza del pulsante P0, che rappresenta l'ingresso 0. Questo perché che io abbia l'ingresso 0, che come abbiamo visto dalla tavella, ha tutti e tre zeri, o io non abbia nessun ingresso, e quando non ho nessun ingresso ho tutti e tre zeri, non cambia. Quindi il primo grosso problema di questa tipologia di encoder base è quello di non riuscire a rilevare la condizione, lo stato di attivazione dell'ingresso 0, poiché non riesce a distinguere tra l'attivazione dello stato 0, dell'ingresso 0, e la non presenza di segnali d'ingresso. Quindi producono entrambi lo stesso codice, che sarà tutti i zeri. Quindi questo è il primo limite. Un altro grande limite di questi encoder si ha quando io ho la, diciamo, premo, come se io voglio andare a vedere, in questo caso qua, premo due o più pulsanti contemporaneamente, nel caso, quindi io ho più ingressi attivati contemporaneamente. Questo mi fornisce delle uscite errate, perché ovviamente non ho più la, diciamo, le uscite pulite come quelle che sono in tabella di verità. Quindi ci sono poi dei conflitti. Allora, questo che cosa, come viene risolto questo? Viene risolto andando proprio a dare quella che è una priorità a ciascun ingresso. Quindi avrò un ingresso che pesa di più, è più importante rispetto ad un'altra, ad un altro. E in questo caso si parla appunto di encoder a priorità, quindi priority encoder o codificatori a priorità, che troviamo qua sotto. Tutto questo lo trovate tranquillamente sul mio sito, dove è già tutto scritto, quindi semplicemente per starlo a riscrivere ve lo faccio vedere da tabelle e tutto quanto, che è un pochino più veloce. Nei codificatori a priorità abbiamo appunto il fatto che se ho due o più pulsanti che vengono premuti contemporaneamente, avrò in uscita il codice riferito all'ingresso con priorità maggiore. Quindi, se ad esempio il livello di priorità è assegnato in modo crescente da i0 ai7 e se vengono premuti insieme i pulsanti i2 e i5, il codice di uscita sarà quello del 5, poiché i5 ha priorità maggiore di i2. Quindi, se noi andiamo a dire, allora da i0 esattamente come quando andiamo a definire un numero binario o d'altro, quindi quello più a destra, in questo caso lo 0 è quello che pesa di meno, quindi ha il bit meno significativo, la cifra meno significativa, in questo caso sarà quella con meno priorità. Mentre man mano che aumenta il numero degli ingressi, quindi i1 avrà priorità su i0, i2 su i1 e i2, su i1 e i0, scusate, i3 su i2, i1 e i0, i4 e così via. Quindi, nel momento che si attiva un ingresso a priorità maggiore, l'altro viene del tutto ignorato. Quindi abbiamo detto, se ad esempio vengono premuti contemporaneamente i2 e i5, io in uscita mi ritroverò il codice di i5, indipendentemente dal resto. Questo lo vedete con queste x, le indifferenze, quindi vuol dire che se attivo i5, non mi interessa di cosa fa i4, i3, i2, i1 e i0, perché questo è più importante. Quindi si ha questa serie di i1 dove sotto, al di sotto, ci sono le x che mi indicano appunto che quello che sta, l'ingresso che sta più a destra, o comunque più basso, ha meno priorità rispetto a quello che sta a sinistra e quindi l'uscita è corrispondenza. Vedete che in questo caso dice le indifferenze sugli ingressi segnalate con la x indicano che il valore non è significativo per determinare l'uscita, siccome ho sicuramente attivo un ingresso a priorità più alta, quindi il caso dell'1 qui e a destra tutte i, oppure l'1 ad esempio in posizione i3 e a destra tutte le altre x. quindi abbiamo visto che il codificatore più classico è quello da ottale a binario, quindi 8.3 si chiama, vedete qua, 8.3. Esistono poi altri tipi di codificatore integrato, ad esempio decimale binario, il 147. Allora, vediamolo un attimo, questo abbiamo sia proprio il tipo di integrato con la piedinatura, quindi abbiamo, come vedete, gli input, i pin di input che sono il 9, l'1, il 2 e il 3, poi abbiamo, e che corrispondono poi al discorso dei pin di questo integrato qua, 10, 11, 12, 13, abbiamo poi sul 16 la VCC, sull'8 la massa, abbiamo poi gli altri ingressi, quindi questo sarà l'ingresso, abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi il 9 qui, e la piedinatura sono queste corrispondenti. L'uscita l'abbiamo sui pin 6 e 7 e l'altra invece sul pin 9, quindi qua abbiamo la A, qui B e C, insomma, sono un po' da una parte e un po' dall'altra, ma comunque si riesce a capire abbastanza tranquillamente. E poi abbiamo anche l'altra uscita, la D, che è sul pin 14, qua lo vediamo un po' più ordinato, e qua ancora più largo per farci capire un attimino da una parte gli ingressi e dall'altra le uscite. Allora, questo è un encoder a punta priorità che è il 147. Allora, si tratta di un codificatore a priorità integrato di tipo decimale binario. Gli ingressi e le uscite sono attivi bassi, vedete che c'è il pallino qua, quindi sono attivi in realtà quando arriva allo 0, non quando arriva all'1. funzionano cioè in logica negativa e si indicano con un pallino. Lavorare in logica negativa garantisce una maggiore immunità ai disturbi perché è più difficile che un ingresso inattivo venga portato per errore allo stato attivo. Quindi se O è più difficile che da uno stato alto per errore vada a uno stato basso rispetto al contrario. Qua quindi abbiamo poi la tabella di verità messa un po' in questo ordine qui, quindi abbiamo in questo caso dall'ingresso 1 e sempre tutti negati all'ingresso 9 e quindi avremo poi le uscite corrispondenti dal ABCD. E qua abbiamo quando abbiamo lo stato tutto alto abbiamo tutto alto anche nelle uscite. quando invece abbiamo il stato l'I1 questo low che mi indica che è attivo perché è attivo basso vedrete che abbiamo l'uscita bassa che è la A e quindi abbiamo 0, 0, 0, 1 questo abbiamo 0, 0, 1, 0 0, 0, 1, 1 0, 1, 0, 0 e così via anche se poi in realtà 0 e 1 sono invertiti quindi diciamo che viene indicato poi anziché 1 e 0 che sennò creerebbero confusione low e high per dire appunto livello alto livello basso e l'ingresso i0 come potete notare anche qua vedete che c'è dai 1 ai 9 non è presente in quanto il suo codice di uscita è lo stato di riposo con nessuna linea attiva ad ingresso attiva quindi con nessuna linea di ingresso attiva quindi anche questo lo stato lo stato i0 l'ingresso i0 non è presente in questo caso rispetto a quello che abbiamo visto prima la tabella è girata nel senso che abbiamo l'ingresso a priorità più alta a destra che è l'i9 e quella a priorità più bassa l'i1 messa a sinistra infatti le x come vedete le indifferenze messe in grigio sono qua quindi vuol dire che quando ho attivato i9 in uscita avrò la combinazione bassa che è questa lhhl quindi in realtà è come se avessi se volessi negarle e pensarla in logica in logica positiva sarebbe un 1 0 0 1 che corrisponde appunto al 9 in questo caso avrò invece 0 1 1 0 che è il contrario e quindi non mi importa se sono attivi anche gli altri perché la priorità ce l'ha comunque l'ingresso 9 stessa cosa per l'i8 è l'ingresso 8 7 6 e così via vedete che sono a scendere quindi tutto quello se è attivo un ingresso tutto quello che sono gli ingressi precedenti vengono ignorati con queste indifferenze altro tipo di codificatore integrato fondamentale è ad esempio il 148 che è un ottale binario quindi è sempre da 8 a 3 però a priorità in questo caso rispetto a quell'8 3 classico che abbiamo visto prima quindi rimane sempre il discorso da ottale a binario quindi gli ingressi da 0 a 7 con 3 uscite quindi il 2 alla 3 dove 3 sono le uscite e 2 alla 3 sono gli ingressi anche questo integrato ha ingressi uscite che sono attivi bassi quindi vedete sempre il pallino della negazione e quello a priorità più alta è il 7 quella a priorità più bassa è lo 0 qui avete sempre il discorso della piedinatura e di come si presenta l'integrato ha una particolarità come potete notare che ha degli ingressi supplementari quindi ha quello che viene sempre attivi bassi quello che viene chiamato enable input che è attivo basso e che è l'ingresso di abilitazione e questo è quando è alto tutte le uscite sono in stato di riposo H indipendentemente dal valore degli ingressi quindi permettono di controllare un po' di più com'è lo stato non solo basandosi su ingresso uscita poi abbiamo invece due ulteriori uscite anche queste attive basse e abbiamo quello che si chiama ground signal e quello che si chiama enable output allora il primo indica quando almeno c'è un ingresso attivo e quindi questo è già ci permette di distinguere tra il discorso di non sapere di avere quell'indecisione sul discorso dell'ingresso zero che non sappiamo se è effettivamente mancanza di ingresso oppure ho la combinazione dell'ingresso zero quindi questo mi dice quando un ingresso è attivo e la seconda invece la seconda uscita quindi l'enable output mi indica che il dispositivo è abilitato ma in quel momento non c'è nessun ingresso attivo e queste linee di controllo in realtà è un ingresso ed uscite e servono per poter collegare in cascata più dispositivi quindi poter gestire un numero maggiori di linee nel senso se io ne ho bisogno di più posso metterle in cascata e andarne a gestire anziché 8 16 24 e così via ingressi la tabella dell'ingresso e uscite la trovate qua in più al discorso di avere le linee di ingresso quindi 0 1 2 3 7 sempre attive basse e le 3 uscite a 0 a 1 a 2 quindi anche qua avremo il discorso delle indifferenze abbiamo in più l'enable input che mi fa a tutti gli effetti da un ingresso e quindi deve essere comunque in stato basso per poter attivare il funzionamento del mio codificatore quindi vedete che nel caso sia alto non mi frega niente di quello che succede in ingresso e le uscite saranno sempre alte mentre se è basso invece mi permette di distinguere lo stato perché ho gli ingressi tutti alti e è vero che ho le uscite che sono alte come nello stato precedente ma cambia questo enable output quindi questo mi va basso e quindi mi va a distinguere degli stati che sarebbero in realtà indistinguibili e poi appunto il discorso qui è priorità al 7 quindi abbiamo tutti qual è l priorità al 6 priorità al 5 e così via e le x indicano le indifferenze cambia appunto questo discorso di come come queste uscite possono dare delle informazioni di più rispetto appunto a che a non esserci quindi questo è il discorso di un 8.3 a priorità bene con questo è tutto per quanto riguarda gli encoder quindi i codificatori in ambito di elettronica digitale spero che vi possa essere d'aiuto la lezione vi ricordo che trovate gli appunti sul sito e mi raccomando se avete piacere commentate il video fatemi sapere se è tutto chiaro ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video ciao ciao